Musica Bentornati con le consigliate previsioni a cura di Meteo One. Dopo le copiose nevicate che hanno colpito nei giorni scorsi i settori adiatici e in particolar modo la Puglia, una nuova fase di maltempo, di stampo decisamente vernale, sta nuovamente interessando l'Italia. Ci ritroveremo a fare i conti con un nuovo affondo gelido di origine artica, che apporterà nevicate al centro nord fino a bassa quota e piogge diffuse al centro sud, con freddo che si estenderà anche su questi ultimi settori a partire da domenica a lunedì. Ma ora andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per sabato 14 gennaio. I venti inizialmente moderati dei quadranti nord-occidentali tenderanno a calmarsi durante le ore serali. Mari da poco mossi a mossi. Ed ora ecco la nostra foto del giorno. Nei giorni scorsi il centro Meteo One ha effettuato un tour nevuso tra le campagne della Morgia. Questa che vedete è una bellissima foto scattata sulla Morgia e nevata al tramonto. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappola, oppure le mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.